Ci sono volute 36 ore in più per chiudere ufficialmente il primo tempo delle amministrative di Fabriano che ha decretato il ballottaggio tra Giovanni Balducci, PD e Civiche e Gabriele Santarelli in Movimento 5 Stelle. Dalle 23 di domenica 11 giugno alle 11 di martedì 13 giugno è stato il tempo delle contestazioni e dello scrutinio chiuso in tre sezioni 4-14-22 in mattinata la chiusura delle operazioni nel feudo dei dissapori elettorali. La sezione 22, chissà se il numero doppio non sia stato uno scherzo del destino. Il quadro definitivo composto ha ovviamente confermato il duello. Balducci-Santarelli rimandando il vincitore il 25 giugno e limando alcuni decimi percentuali, 34,9% per il candidato di centrosinistra contro il 29,8% del pentastellato. Tra i due 704 voti di differenza che diventano battaglia nel secondo turno, l'affluenza in ulteriore calo e la protesta potrebbero azzerare il vantaggio di Balducci consegnando Fabriano Santarelli nel mezzo strategie di campagna elettorale. Io ragiono per il bene della città. L'imboscata ci può essere come può essere tutto, se non chiamiamola imboscata. Diciamo che ci possono essere degli accordi o delle sensibilità comuni che trovano un accordo. Ci potrà essere un accordo con la sinistra di Articoni? Da parte nostra? Ma io da parte mia l'ho sempre detto, io voglio coinvolgere chiunque voglia il bene di questa città, per cui chiunque voglia il bene di questa città troverà sempre le porte aperte. E cosa farà la differenza al ballottaggio? La voglia di cambiare. Se i cittadini vorranno rimanere su questo livello di amministrazione, sapranno a chi devono votare. Se vogliono cambiare, e Fabriano penso che abbia bisogno di cambiare, a quel punto allora forse avremo qualche sorpresa. A fare di sicuro la differenza sarà il 30% accumulato dai due outsiders. Vinicio Orteconi, candidato di Fabriano Progressista, la lista nata a sinistra sotto il no alla chiusura del punto nascita dell'ospedale fabrianese, e Vincenzo Scattolini, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Nessuna volontà di essere corteggiati per i due. Vincenzo Scattolini, se andrà al ballottaggio, voterà Vincenzo Scattolini. Per quanto riguarda gli altri, no, non ho ancora deciso, quindi non mi sento di esprimermi adesso. Vinicio Orteconi, coloro che lo stanno sostenendo l'hanno sostenuto, che cosa faranno al secondo turno? Ecco, siamo tutti d'accordo e penso che, visto che l'abbiamo scritto nel programma e l'abbiamo ribadito, noi non faremo apparentamenti né daremo indicazioni di voto. Ci teniamo a conservare la nostra identità. Quel che è certo è che sarà una battaglia, porta a porta, voto a voto, clic a clic.